nell'imprenditore Vincenzo Onorio però sono due discorsi diversi perché la doccia Onorio da quello che ci risulta alla sete da Marsala mentre per l'Alcamo bisognerà fare una cosa più lunga, i tempi sono certissimi perché entro i 15 bisognerà fare il tutto secondo me quello dell'Alba Alcamo secondo me il progetto è già saltato perché nel progetto c'era Cosimo Tumbarello che ieri è diventato almeno ieri l'hanno ufficializzato il direttore generale della Mazzarese quindi presumo che quel progetto che poteva portare l'Alba Alcamo a Marsala come dicevi tu non è un comune limitrofo è una prassi molto particolare si può fare perché l'hanno fatto con Marsala quindi si poteva pure fare però ho un discorso molto lungo molto ampio è più facile secondo me è più logico prendere il titolo di Onorio e poi cambiare il nome che è una cosa molto semplice praticamente la regione sociale è già a Marsala praticamente devi fare solo il cambio di denominazione sociale e la fa in Lega qui a praticamente a Palermo poi non so se va a mandato a Roma ma è molto semplice quindi voglio dire che è